Salvo, oggi ci hai contattato per denunciare questo scempio nel cuore dello Zen. Tutto lo Zen è così, è circondato di immondizia, si devono prendere i provvedimenti. Non è possibile vedere, di fronte a una scuola famosa, Giovanni Falcone, vedere la gente che butta l'immondizia. Non è corretto, non è giusto. Bisogna prendere dei provvedimenti, mettere delle telecamere, qualcosa. Non è bisogno solo pulire e andare via. Pulire e bisogna mettere delle telecamere. Perché qui la gente passa, butta e scappa via. I residenti che insistono in prossimità della discarica non saranno felici? No, i residenti ci segnalano questi problemi, dei topi, dell'immondizia, di tutto di più. I ragazzi scendono per andare a scuola e vedono questo decreto. Non è giusto. Credo che la forma spesso diventa sostanza. E quando i ragazzi ogni mattina sono costretti, andando presso un istituto, come quello titolato a Giovanni Falcone, uomo delle istituzioni, ucciso dalla mafia, si trovano costretti a vedere, a subire la violenza di questo scempio. Mi chiedo, qual è il messaggio educativo che colgono rientrando a casa? Quante ore gli insegnanti dovranno parlare loro per cancellare il male che hanno ricevuto da questo passaggio quotidiano? Credo che questo è un vero e proprio solco che rimane impresso nelle loro menti. mi dispiace dirlo, persino al di là degli insegnamenti dei loro docenti.